Ok, io preparo la carta a frattempo. Ok. Troppo grande? No, va bene. Dobbiamo mettere la carta. Molto sempre. Questo è il verde. Oppure questo? Sì, questo. Che fiori sono queste? Queste sono erbe raccolte in Campania. C'è il nome? Ah, questa è nebbiolina che si usa per decorazioni e abbellimenti delle piante floreali. Un bouquet delle spose. Volevo mettere questa piccola. O vogliamo questa? Ah, che ci sta... Aspettando. Un teatro. Sì, sì, sì. Per i bambini. Non mettere uno sopra l'altro perché sennò dopo si vedono... Non esce... In più, in minima, meglio è. Aspettiamo. Un attimo. Spagliamo. Un attimo. Attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Ok, questa è bella! Posso farvi una foto? Ciao Ciao Sì Bella E giù Andate Perché ho sentito stare Eccola La violina è bellissima Sì, la violina è Ok Adesso poi vogliamo stoppare La violina Ok Vediamo la capa Sì Vuoi provare? Sì, allora Prego, prego Forza Forza Oh, se mi ho staccato stopp, 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 stopp Ok E abbiamo anche questa storia Che è molto bella Molto delicata Ti piace l'olio? Stilografia Scavando con le sgorbie Usando le sgorbie Scavando Questa è la tecnica diretta A ricavo Indiretta A ricavo A rilievo Che si mette Inchiestro sopra E quello stampa Dove la parte non scavata Rimane nera Quella parte scavata Rimane bianca Che sarebbe Non ce l'ho Ah, qua No, no, è questa Che sarebbe questo Effetto sarebbe Questo E quell'altra lo conosce Serigrafia E questa invece È l'incisione di botanica L'incisione botanica Si L'incisione botanica Qui è rimasto il pigmento Della papavera Che non abbiamo aggiunto l'altro